In corso, si consiglia di prepararsi allo scontro. Sei pronto? Dai, che mi scappa del rock! Che succede? Sarà un vero spasso! Tempo rimasto? 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1 Che la battaglia abbia inizio. Ho io quello che fa per voi! Che succede? Iniziamo! Signi di gialli assenti. Hai un animo guerriero? Siete ben strati! Forza! Sembra divertente? Mettimi alla prova! Le mie ferite si richiudono. Ehi, beccatevi qui! Okidoki! Siete cattivi! Ehi, beccatevi qui! Siete cattivi! Venito, sconfitto! Siete cattivi! Ora sto meglio! Scegli un talento Attenzione, collocamento degli ordini in forza Sono pronto Ehi, spettate di questo! Ordini pronti alla raccorta, ora Sono grato dell'aiuto Sì Che succede? Questo me l'ha insegnato mio zio Testata nucleare l'unica lanciata Ora sto meglio Forza Forza Siete cattivi Sembra divertente? Ho io quello che fa per voi Sembra divertente? Tutti gli ordini sono stati conquistati Ci siamo Scegli un talento Testata nucleare l'unica lanciata Ora preso la forza Ecco Siete cattivi Ho io quello che fa per voi Sembra divertente? Siete ben strani La squadra ha perso un forte Siete ben strani Ci siamo Sembra divertente? Le mie ferite si chiudono Non mi fate paura Il vostro nemico ha distrutto un forte Collocamento degli ordini in corso State pronti alla raccolta Sembra divertente? Ci siamo Gli ordini sono prugli alla raccolta Sembra divertente? Sì Rostarogito Raccolta degli ordini terminata Prepararsi al prossimo round Ho io quello che fa per voi Un forte alleato è caduto Un forte alleato è caduto Sei una vera rockstar, fratello Adoro esplorare Questo me l'ha insegnato mio zio Questo me l'ha insegnato mio zio Ehi Ehi Ecco la ricerca speciale Trosta roghi Stanno rigenerando Irredirazione Uppia Doppia uccisione Uccisione tripla Uccisione quadra Sarà fantastico Hai combattuto bene Non mi fate paura Mettimi alla prova Mi sono grado dell'aiuto Questo me l'ha insegnato mio zio Ora sto male Colocamento degli ordini in corso Calcolo del tempo rimasto Scegli un talento Adoro esplorare Collocamento completato Gli ordini possono essere raccolti Adoro esplorare Ci siamo Raccolta degli ordini Sei una vera rockstar Siete castiti Uccisione quadra Lanciata Avremo attaccerti BAM Questo me l'ha insegnato mio zio Tu l'hai attupiativo Adoro esplorare Ho io quello che fa per pochi Mi sono grado dell'aiuto Mi sono grado dell'aiuto Ruffi taroghi E ho i miei Tutto bene lì a ferra Sarà fantastico Siete cattivi Mi sono grado delle cure Adoro esplorare Segni vitali Assenti Mi sono stancato di te Siete Un po' giù di male Ehi Sono pronto Non mi fate paura Devo andare A più tardi Prepararsi Prepararsi al collocamento Degli ordini Scegli Un talento Oh mitica L'adoro Sembra divertente Collocamento Degli ordini Terminato Si consiglia Una nuova Un'inunzione Un'unione Assalto dal drago La tua furia omicida E terminata Qualcuno deve Fermare Quest'eroe Come tagliare La seta Un'unione 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 Un'evoluzione Tutti Un'unione Ma Questa Questa Un'unione Tutti gli ordini sono stati raccolti E rigenerate! Sono pronta a continuare Non ci bastiamo Ho io quello che fa per voi Ben fatto, guarito Certo! Ho ripreso le forze Non mi fate paura Sembra divertente Bianco ucciso Uccisione confermata Scorri come l'ha Scogli un talento Un alleato ha bisogno del nostro aiuto Attenzione! Nucleo sotto attacco da parte di forze ostili Un alleato ha bisogno del nostro aiuto Perfetto Prima Attenzione! collocamento degli ordigni quasi proprietato collocamento degli ordigni sono stati collocati fine dell'aggiornamento ti sono grato delle cure ordigni raccolti ho io quello che fa per voi che succede ehi! un fiore! sopposiamo questo campo di mercenari che succede? siete persi fuori dai piedi nemico sconfitto eroe nemico eliminato un'azione audace un'azione audace le mie ferite si chiude forte mi muco distrutto che succede? oi sconfitto un'azione audace che si chiude e Fortezza distrutta Ordinate per la raccolta Ottima cura, baby Andiamo! Sono costretta a ritirarmi Rimpiegate! Raccolta terminata Ehi, vincatevi questo! Ehi, vincatevi! Ehi, vincatevi! Sono stato rigenerato Testata nucleare nemica lanciata Ehi, vincatevi! Ehi, vincatevi questo! Uccisione confermata Ehi, vincatevi! Ehi, vincatevi! Ehi, vincatevi! Certo! Ehi, vincatevi! 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 Io sono il vento! Ehi, vincatevi! Ehi, vincatevi! Ehi, vincatevi! Ordine di lavoro terminato. Ordini collocati. Sì, sembra di venire. Sì, senza il napalm. Ho io quello che fa per voi. Ciao! Lo accendiamo? Superbo! Uccidete questo nemico, ora! Ehi, che spiace! Mi sono grato dell'aiuto. Che succede? Non mi fa per paura. Eroe nemico. Eroe nemico. Eroe nemico. Doppia uccisione. Uccisione tripla. Uccisione quadrupla. Sì, ben fatto! Questo me l'ha insegnato mio zio! Ehi, un pioce! Soprattutto questo campo di lancerai. Attenzione! Il vostro nucleo è sotto attacco. Certo! Non mi pare! Oggi ma cura, baby! Ehi! Soprattutto questo campo di lanceri! Siete cattivi! Sono pronta! Oh! Siete cattivi! È ciò pazzesco! Il vostro nucleo è sotto attacco di mercenario! Collocamento degli ordini in corso. State pronti alla raccolta. Oh! Ora sto meglio. Mettimi alla prova. Sarà fantastico. Aggiornamento. Gli ordini sono stati collocati. Fine dell'aggiornamento. Fatti sotto. Dove che procedere a lancio, amministratore. Sono pronta a continuare la caccia. Congratulazioni. Mettimi alla caccia. Mettimi alla caccia. Mettimi alla caccia. Mettimi alla caccia. Mettimi alla caccia.